Ciao a tutti, oggi è mercoledì santo 17 aprile. Siamo al termine della nostra via crucis quotidiana e Gesù viene messo nel sepolcro, avvolto in un lenzuolo, seppellito e in attesa della sua risurrezione. È un dramma per noi la sepoltura, certo per tutti noi abbiamo seppellito i nostri cari e un giorno saremo seppelliti, anche Cristo. Mi piace questo Cristo che viene sepolto, come lo sarò io. Però non solo la sepoltura, qui c'è anche l'attesa della risurrezione e anche io e anche noi sappiamo che un giorno il sepolcro sarà soltanto una sosta, più o meno lunga non ci interessa, ma è una sosta per la nostra risurrezione finale. Che gioia e che serenità ci viene, è già l'anticipo della Pasqua. Buona giornata a voi.